Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Terratech Come abbiamo lanciato nello scorso episodio, oggi andremo a rifare un pochettino questo robottino qui Che purtroppo non regge più le battaglie per anni come ai tempi Siccome ho detto che appunto non ho soldi perchè ho 81 BB e quindi non posso comprarci assolutamente nulla E mi servono le batterie, come vi ho annunciato nello scorso episodio le andrò a prendere a questa cosa qui Che andrò prontamente a smantellare In verità siccome questo robottino qui comunque l'ho fatto con tanti impegni Ci ho messo un episodio e sembra strano, cioè qualcuno potrebbe dire ma un episodio per questo? Eh sì, eh sì ragazzi Quindi semplicemente mi limiterò a levarci le batterie e questo già qui lo lascio intatto Che comunque per il futuro potrebbe servire qualche esperimento un po' strano, non lo so Comunque riprendiamo il possesso di questo qua e mettiamoci all'opera Intanto modalità costruzione ovviamente e come avevo annunciato si levano tutte queste ruote qui Quelle laterali insomma, almeno da un lato e basta Perché? Perché semplicemente appunto come avevo spoilerato In realtà questi qui sono i blocchi quelli normali ok? Non sono quelli lì doppi che pesano un pochettino di meno Andrò semplicemente per il momento ad aggiungere una striscia di blocchi in più così Ovviamente cercherò di farlo in modo tattico più o meno E ho trovato la cabina ok da quest'altra parte, perfetto Quindi devo prima di tutto levare le torrettine perché se no poi non riesco ad aggiungere altri blocchi E dovrò veramente fare un bel lavoro perché qua mi tocca spostare veramente molte, molte cose Quindi penso sia un problema sinceramente Penso sarà una cosa abbastanza difficile, non troppo facile Ma ci si può provare Allora qua sporgeva da tutte le parti di un blocco Anche in cima, no in cima no Ma in verità nemmeno qua, perché qua non sporgeva? Ma che... Ah ma... Ma soltanto nell'ultimo sporgeva Ma le vogliamo potenziare un pochettino questo robottino oppure no Dai mettiamo un'altra sporgenza pure di qua Così si aggiungono altre torrette totalmente a caso, perfetto Quindi, praticamente queste erano le torrette che c'erano già pure prima, in poche parole Vediamo quindi quanto riusciamo a mettere in più di potenza di fuoco rispetto a prima Quindi, allora andiamo nelle torrettine della Venture Mi avete detto che le altre vi siete informati voi e sono effettivamente più potenti Ma per il momento non mi interessano più di tanto Quindi continuiamo a metterci queste Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, sono un pochettino i torrettini in più rispetto a prima, quindi perfetto E oltretutto, cosa che devo fare è vero, devo aggiungere anche quelle normali Quelle che sparano dritto Perché comunque sono molto utili Ora però ho visto una cosa Effettivamente quelle che sparano dritto non me ne servono chissà quante Quindi penso che le sposterò qua di sotto così E qua metterò un'altra fila di queste qua che a mio parere sono molto più utili Però, però appunto, prima volevo controllare una cosa E devo andare tipo con un robottino che sta qua vicino Perché appunto prima volevo controllare effettivamente qual è la cosa più costosa Magari devi provare qualche arma nuova, ecco, non saprei Quindi mi informo un attimo sulle armi e vi faccio sapere Allora, ho visto un pochino Le armi più costose sono in assoluto, dico Sono queste qui Che sarebbe tipo una specie di mortaio che lancia mestri in aglia Che però mi fa veramente schifo E veramente orribile Non mira nemmeno i nemici, sinceramente non l'ho mai capito A parte quelle qua, queste qua della Geo Corporation Che non sono veramente armi ma servono per minare Quindi non contano Intanto queste queste ne sta andando a giro Dovrei parcheggiarlo per bene, ok Così dovrebbe andare bene, sì E ovviamente le più costose sono queste qua dell'Aventure Le SMG Quindi per test penso che ce le metterò Sì, penso proprio che ce le metterò Quindi tanto questo qui è caduto Perfetto proprio Ma non so quante ne ho Ok, ne ho un pochettino Dovrebbe andare bene No, penso di averla messa un po' torta, sinceramente Ah, ma non ci sta Eh no Eh no, qui non le posso mica mettere io Non me le fa mettere Perché si vede sono troppo alte Però di lato me le fa mettere Perché occupano due e non uno Quindi potrei metterle tipo di lato così Beh, non... Non è malvagia come cose in effetti Non so quanto possano sparare bene Cioè, tutto in modo direzionale Vediamo Mmm Non mi sembra facciano molto Dove stanno finendo quei colpi? Ah, finisco in impasto normalmente Forse dovrei metterle un pochettino più in alto Allora So cosa fare Le metto qua in cima Dove assolutamente funzionano Penso, spero, bene E soprattutto non danno voglia a nessuno Quindi Qua in cima Sembrano quasi perfette Il problema è che vado veramente a levare molte, molte torrette Quindi penso che ne metterò poche Sinceramente penso qualcosa come il 4 Ecco Semplicemente qua ne metto altre due Così non vado a fare chissà che cosa E dovrebbe più o meno andare bene Ora A livello di fuoco Potenza di fuoco Così dovrebbe andare bene Vediamo Sì, ok Perché Ah, guardate Da quanto è un potente A livello di danni e robe varie Ha usato un'altra torrette Che praticamente va indietro Se sparo Perfetto Ma Come ultima cosa Ma non meno importante Che poi non è l'ultima cosa Perché c'è ancora un bel po' da fare Volevo assolutamente Provare a metterci le ruote nuove Che non so assolutamente nulla di queste ruote Non so nemmeno se c'entano qui sinceramente Però Ci si provano Ci si prova giustamente Allora Vediamo Ok Sono grosse Enormi Userei dire Ehm Penso che Per mettere queste ruote qui Effettivamente Dovrei levare Queste qua dietro Vabbè Un pochettino mi dispiace Ma nemmeno più di tanto Alla fine sono soltanto test Se il test va male Ce le rimetto Insomma Così via Dobbiamo soltanto testare Soprattutto di ruote Di queste qua Ne ho veramente poche Non ne ho tantissime E per favore Spostatevi voi Infatti Me ne sono avanzate Ah no Invece ne ho ancora un pochettino Ok Potrei mettere un'altra qua davanti E Ok Qua perché le mette più in cima Cosa c'è qua che blocca No qua non c'è nulla che blocca Ok Che cosa strana Vediamo se riesco Così Ok Perfetto Un'altra Anzi in verità Ho sbagliato un pochettino Perché in verità dovrebbe stare un pochettino più indietro così Due davanti e due dietro Semplicemente perché dietro ci dovrebbe essere Il A parte le batterie Eppure questo cosa qui che trasporta tutto E quindi Penso Fa già le scintille ora Fa già le scintille ora che non c'è nulla sopra Comunque E' figo Cioè è abbastanza veloce Sembra più lento Ma semplicemente perché E' più lezzo No in verità non è che sia più lezzo Però Effettivamente c'è un problema C'è un problema di base qua Che Però non posso risolvere in nessun modo A quanto pare Mi servirebbe una cabina dell'Aventure Per vedere a quanto va di velocità Quest'aggeggio E' una cosa Che veramente Devo assolutamente fare Qua che cabina c'ho messo No qua c'è la cabina standard Mi serve una cabina Dov'è che la posso rubare Una cabina dell'Aventure Ehm Non lo so Non lo so Cosa che non uso più qua La moto no La moto non posso Tutto perché la moto C'è la ruota lì è attaccata Questo qui non ce l'ha La cabina Ok questo si Vediamo se si distrugge tutto Ok non si distrugge nulla Perfetto E se tipo la metto qui Ok mi dice la velocità Ora perfetto Mi dice la velocità E stiamo andando A 50 60 60 Perché ragazzi io devo vedere Veramente la velocità giusta Qual è Stiamo andando a circa 60 all'ora Quindi è più veloce Dell'altro 50 60 all'ora è più veloce Ok Ehm A questo punto Mi sa che devo anche allungarlo Perché se no Non tiene assolutamente Tutto il peso Con queste ruote qui Quindi Devo vedere Il punto è Mi basteranno le ruote Non lo so Non ne ho proprio la minima idea Ok praticamente Ho proprio sostituito la cabina Infatti sotto non si viene Una differenza Ma la cabina dovrebbe essere Questa qui appunto E Ho direttamente levato Quella precedente Ci ho messo questa Perché non aveva senso Tanto tenere ne due Ok si discorta In caso dovessero distruggere Ma Sti cazzi Il problema sorge qui Che riguarda le ruote Ne ho soltanto una E non ho modo Di ricompararne altre Perché Nonostante Effettivamente Siano sbloccate Queste ruote Purtroppo Non ho abbastanza soldi Quindi O provo Ad usare Le altre ruote Di qualche altra marca Come queste qua Che ne ho addirittura 20 Oppure Senzamente Non lo so Ora provo un pochettino A livello di velocità Guardo se cambia qualcosa Spero Che vada più veloce Se no Non cambia nulla Cioè Boh E tutto da vedere ancora Vedremo dai Decisamente Troppo Troppo Lento Mentre prima stavamo sui 50-60 Qui stiamo sui 25-30 E in salita addirittura Di meno E Orribile Cioè queste ruote Già fanno ancora Le scintille Ma No Non ci siamo per niente Veramente non ci siamo Con queste qua Troppo lento Troppo lento Invece Rimettendo le classiche ruote Normali Si vede una velocità Standard Di 60-65 Sul pari Che È più o meno Come quella Che avevamo prima Con le nostre vecchie ruote Insomma Le ruote Quelle grosse Sono tanto che A parte che facevano le scintille Come del resto Fanno le scintille Pure queste Però le ruote di prima Essendo un pochettino Più grosse Forse occupavano Meno spazio E boh Ci potevano stare Il fatto è che non c'è Abbastanza sordi Per comprarne altre Quindi più o meno Va bene così E ora cerco un pochettino Di rimediare Con questo qua C'è soltanto un problema Che Io vedo Che sta veramente Cioè ogni 3 secondi Siccome è troppo largo Struscia dietro Quindi Devo assolutamente Rimediare Questo problema Perché Non si può andare a giro così Quindi Rifaccio il pezzo dietro Lo allungo anche un pochettino Un pochettino Lo posso ancora allungare E si vede Cosa esce Dai Allora intanto Ho rimosso le batterie E ho messo in modo simmetrico Quest'altra tanica E Devo sbrigarmi assolutamente A mettere di nuovo le batterie Perché se no qua Succede un casino Che siamo senza corrente Ho dovuto infatti Le ho messe cariche Sono scariche Per qualche strano motivo Comunque Sapendo veramente Una forma strana Devo dire Ma intanto Lo carico un attimo Perché se no Veramente arriva un tipo a caso E mi distrugge proprio tutto Già che sono qui Mentre si sta caricando Ne approfitto Per raggiungere Altri blocchettini dietro Allora Siccome mi sono rotto Dei blocchi pesanti Soprattutto perché Ragazzi Bisogna portare a giro Sempre ogni volta Quella geggio lì Che Madonna il buco nero È stra pesante Volevo cominciare a usare Ora i blocchi questi qui Che sono straleggeri Straleggeri Mica tanto Però sono come I blocchettini normali Soltanto che Dovrebbero essere In teoria meglio A questo punto Ci riattacco altre ruote Che tanto di queste qui Ne ho veramente tante Quindi posso veramente Fare miracoli E spero Non faccia le scintille Come sempre Perché come cosa È abbastanza devastante Anche se Senzamente penso Pesi un pochettino Troppo in cima Ora che l'ho potenziato Però vabbè Non si sa mai Vediamo un pochettino Se fa le scintille No Così non le fa le scintille Perfetto Perfetto Almeno mi sembra No Sì Forse in cima Si danneggia tantissimo In cima Perché tocca per terra Cavolo Questo non ci voleva Perché è troppo pesante Come faccio Come faccio Ora Ok praticamente Ho messo in cima Queste due ruote qui Che per quanto Posa sembrare strano Funziona Cioè È vero Può sembrare strano Può sembrare Che siano alla stessa Altezza dei blocchi Però Effettivamente Andando a giro Se io faccio Tutte le manovre Che voglio Così Ok qua dietro Continua a prendere danno Perché non ci sono Ma in cima Guardate Non prende più danno Nessun blocco Intanto questo qui Mi sta anche attaccando E come cosa È veramente top E questo qui Veramente mi sta attaccando Quindi per favore muori Ah è vero Proviamo le nove armi Non mi rispetterebbe Ok lui è già lì Purtroppo con le curve Diventa sempre più un problema Però Alla fine Chi se ne frega Dai Allora Muori tantissimo Sì ok Si guida molto molto meglio Così in effetti Però Noi vogliamo Annientare lui In questo momento In questo modo Però c'è da dire una cosa Ho diminuito La potenza di fuoco Delle torrette Direzionali Ma c'è da dire una cosa Molto più importante Che praticamente Su questo ruote qui Se non sbaglio Si possono attaccare Delle armi Non ne sono sicuro Però mi sembra Che qua di lato Si possa fare Quindi ci provo subito Andiamo nella Venture E le torrettine Che non mi ricordo Ecco eccole qua Metto quelle standard Sì Si può fare Si può fare Le posso mettere Sia in cima Che dietro E oltretutto Le posso mettere pure di qua Però così Andrebbero a A colpiri Anche l'altro E' una cosa Un pochettino Che sinceramente Non saprei come gestirmela Però effettivamente Così è molto figo Possiamo metterci anche Due armi extra Cioè Abbiamo levato due armi Effettivamente Quindi un problema Però ne abbiamo aggiunto Altri due Quindi alla fine va bene Cioè ci sta come cosa Vediamo quanto è figo così Che top Che top Veramente Purtroppo Oddio ma stavo sperando Alla base Si ok Quelle direzionali Purtroppo non le posso mettere qui Perché non si attaccano Se non sbaglio A questi posti laterali Ma mirerebbero di lato Però alla fine va bene così Chi se ne frega Ora fatto questo Ci sono da fare altre cose Molto molto importanti Ovvero tutta la sezione Dei turbo E robe varie E dei booster E cassatine varie E nell'ultimo episodio Appunto Avevo trovato Delle cose molto molto interessanti Che andiamo subito a prendere Ovvero questo In verità era soltanto uno Non era delle cose Però vabbè Ci si accontenta È tipo enorme Non so minimamente Quanto possa consumare Però si prova Si prova perché è un pezzo nuovo Allora Vediamo Andiamo a circa 74 E non sta consumando Non sta consumando nulla Guardate Io tengo shift premuto Non sta consumando nulla Praticamente Fa quasi in tempo A riempirsi Però la velocità Fa veramente schifo La velocità Cioè aumenta di pochissimo Dai Infatti Ora ho una velocità Fissa di 60 Se metto il turbo Aumenta di 10 15 20 Che sia chiaro E anche tanto Però potremmo fare di me Soprattutto perché Prima avevamo anche tantissimi Tanni Che ora abbiamo suonato due Quindi un pochettino Le possiamo aggiungere effettivamente Dovete vedere Se sono più forti E più forte Questo coso qui Ho tanti di quelli piccini Sinceramente Non lo so Quindi andiamo subito a provare Tipo per test Potrei provare a metterne 4 Di questi qua E vedere se cambia qualcosa Cosa cambia E robe varie Allora La velocità prima Era intorno ai 60 70 Vediamo ora Si raggiungono addirittura Gli 80 Ma è già scarico È già scarico Ok È una cosa un pochettino brutta Questa qui Però alla fine No è durato veramente poco Però ci siamo notati molto Perché abbiamo raggiunto Una velocità più elevata Alla fine a noi ci interessa Lo scatto E non la durata Perché La durata Cioè deve essere veloce Il mezzo Però effettivamente Il turbo serve per lo scatto E non per chissà che cosa Quindi questi qui Per ora li levo E secondo me Questo qui È tanta tanta roba Però andrebbe messo Insieme ad altre cose Appunto I razzettini Però Prima vorrei metterci Un po' di tanniche Perché le tanniche Si sa che servono Quindi Mettiamone un pochettino Così Che poi oltretutto Non dovrei mettere Questi secondo me Secondo me Dovrei mettere direttamente Le altre E chi se ne frega di queste Soprattutto due batterie Basteranno O l'ho depotenziato Così Questo non lo so Non lo so veramente Uh Che top Potrei metterle così Di lato Però magari In una posizione Un pochettino più carina Ok Messe come sono ora Sono perfette Veramente Tanta roba E qua è rimasto dietro Tutto libero ancora Quindi posso veramente Metterci altre cose Molto molto interessanti Ehm Tra cui Non lo so sinceramente Cos'è che ci posso mettere Altri turbo Sì Posso metterci altri turbo Forse dietro Non mi converebbe Mettere proprio così dietro Perché magari strusciano per terra Però c'è sempre La solita regola Cosa Ha avvenuto qualcosa A 18 Non so cosa Però è avvenuto qualcosa Potrei mettere sempre Le solite ruote Queste qua Che dovrebbero toccare terra Così In modo che Non vanno a rompere Ai blocchi Che non si danneggiano Poi Altri turbo Ce li potrei mettere Sì Quindi appunto Eccoli qua Se ne mette uno di qua Uno di qua E oltretutto Effettivamente Quindi raggiungere Raggiungere la stessa velocità Di prima Con un mezzo Pesante A mio parere Conta veramente molto Oltretutto Guardate quanto dura Di più Il boost C'è veramente Una cosa impressionante Dura tipo Il doppio rispetto A prima appunto Quindi veramente Tanta roba Detto questo C'è rimasto Un bordello di spazio libero Che sinceramente Non so come utilizzare Quindi Ottimo Pensavo di metterci Magari Due di questi Aggeggini qui Non è affatto male Come idea E magari Magari servono Anche a qualcosa Vediamo se è nato L'ho messo in modo simmetrico Sembrerebbe di sì Ok Con questo qui Dovremmo avere una Girata di crociera Un pochettino più veloce Ma Sinceramente Non mi sembra Però In teoria Dovrebbe essere Ok 85 Abbiamo raggiunto Gli 85 Senza grossi problemi E Sì Sì Forse Siamo andando più veloce Sinceramente A me Questa velocità Va più che bene È un robot In un tot sommato Molto impotente Rispetto a prima Infatti Guardate quante armi abbiamo Non prende più danno Sui blocchi Rispetto ai movimenti Perché appunto Sono queste ruote Sia davanti che dietro Che proteggono Più o meno i blocchi Ho visto qua I reattori In quanto si danneggiano Ma chi se ne frega Le batteri Ci hanno messo Quelle della Geocorporation Che contengono Un bordello di energia In confronto a quelle normali Però Non so se In linee generali Stiamo contenendo Più o meno energia Rispetto a prima Però l'upgrade Si è fatto E funziona Meglio di prima Quindi Sono soddisfatto Oltretutto Cosa molto bella Ci è avanzato Un bordello Di spazio Per aggiungere cose future Quindi Ottimo Ottimo veramente Detto questo ragazzi Io sono avanzato Soddisfatto Di come l'ho modificato Se avete dei suggerimenti Suggeritemeli pure Perché appunto Sono aperto A qualsiasi tipo Di critica Costruttiva O meno E tipo anche Qualcosa di isterico Tipo Ehi quelle torrette lì Fanno schivore a vedere Cioè si ok Ditemi ragazzi Ditemi pure Cosa ne pensate Oltretutto Visto che qui Ci sono due spazi liberi Quindi effettivamente Potrei metterci Altre direzionali Lì per potenziarlo Anzi Lo faccio subito Perché tanto Non mi costa Assolutamente nulla Metterli ora Quindi GSO Eccoli qua Così almeno L'abbiamo potenziato Ancora un pochettino Al volo E tutto questo ragazzi Io penso Di aver raggiunto Un livello Che mi rende Veramente soddisfatto Tutto questo Vi ricordo Che abbiamo fatto Per andare avanti Con le missioni Della OK Che si è visto Che sono Abbanzia difficili E non sarei riuscito A distruggire Quelli del gioco Operation Perlomeno velocemente Quindi ne ho approfittato Per potenziarlo Ancora di più Se avete dei suggerimenti Vi ripeto Di scrivermi nei commenti Perché magari Ho sbagliato qualcosa Magari potevo ottimizzare Meglio i turbo O robe varie Comunque Ditemi pure Detto questo ragazzi Spero che questo video Leggissimo di Terratech Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti